Ciao a tutti doggy, io sono DoggyColor e oggi con me c'è un'amica molto, ma molto speciale, ovvero Eli, ciao Eli! Ciao! Allora, come vedete, siamo su Adopt Me, eh sì, siamo nella stanza di voi fan. Eccola qui, perché ora... Molto, molto bella! Molto, molto bella! La vogliamo! È bellissima, è la nostra stanza preferita. E in pratica... Sì, sto riprendendo da un'altra visuale, ecco. E mi piace molto, sinceramente. Doggy è stata un'ora soltanto per trovarla. Vabbè, sì, dettagli. Per un doggy più felice. Quindi sì, lasciate like solo per questo, solo. Ok, abbiamo anche... Oddio, aiuto, chi è? Moon312-Ita, che la saluto. Ah, e vorrei salutare qualche fan, perché mi hanno regalato delle cose. Allora, comunque, ho fatto questo trade. Quindi ora ho un eggil. Io tipo l'adoro e nada. L'adoro. Allora, secondo me Doggy ha fatto un pochino male a scambiare il parrotto. Ma il parrotto vale molto. Vabbè, a parte questo. Vorrei salutare Alina Gacha Gamer YouTube, che mi ha regalato una Blue Rider. E anche Ascu5T, che mi ha regalato un Floppy Bunny Plushy. Quindi un orsacchiotto. Thank you very much. Grazie mille. E basta. Penso che non devo salutare più nessuno. Penso che non debba salutare più nessuno. Aspettate. Ah no, anche Acqua8271 per un MidiCag. Grazie a tutti. Un bacio. Grazie. Ah, ecco ragazzi. Eccolo qua. Il mio amore. Questo è il mio amore. Vabbè, io ho avuto un Megapetto. Ma a parte questo. Ah, e comunque ragazzi, questo è il mio nuovo outfit. Ne ho fatti altri due. E nada. Eccomi. Io sono questa. Se vedete, magari qualcuno con un outfit diverso, non sono io. Perché ora avrò sempre questo outfit. Oppure lo cambio, ma sempre con i Robux. Oggi, come avete detto dal titolo... Ah, no, non ci butteremo. Mi butto. E andremo... Cioè, proveremo a scambiare da un Cracket Egg, quindi da un comune, giusto? È un comune il Cracket Egg? Penso di sì, ora lo scopriremo. Sì, sì. Da un comune. Sì, andimi. Comunque, grazie a Tony per l'idea del video. Eh sì, ringraziamo Tony per l'idea del video perché comunque lui ci ha dato quest'idea. Oggi non ci potrà essere, però tranquilli perché ci sarà sempre. In altri video. Allora, quindi, io sto comprando un Cracket Egg. Quindi, ecco, vediamo un po'. È un comune. Ah, aspettate, aspettate. I crediti per aver ideato questo video a Frenchy Dreams. Sì. Ma, Ellie, non il Cracket Egg. No, no, ho comprato il Mickey Tick Egg. Sono stupida. Vabbè, dai. Faremo un altro video in cui apriremo un Mickey Tick Egg. Sì, ragazzi, quindi lasciate tantissimi like. A me? No, a te ho già fame. Bene. A scuola, a scuola. Non mi interessa. A scuola. Che tristezza. Comunque, ragazzi. Io che non volevo sfruttare i miei soldi. Comunque, ragazzi, il per due dei, del, 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 non mi ricordo neanche io. Sì, dei Bucks. Cioè, dei Bucks, appunto, delle emissioni. Non c'è più, se non l'ho capito male. Ma è diventato ricco, sto server. Diciamo. Più o meno. Più o meno, più o meno. Quindi. Sì, dai, ci sta, ci sta. Ci sta. Vai, Ellie, te trasportati, deve mangiare. Quindi penso che non ci saranno più due missioni. Ma comunque. Ok, ragazzi, quindi. No, oggi non dobbiamo fare dove schiudiamo. Fai una missione. Ma oggi, appunto, scambieremo da un comune. Ce l'avevamo dimenticate che non dovevamo schiuderlo. Perché noi, ragazzi, guardiamo le uova e le schiudiamo. Basta. Noi siamo un po' più così. Sì, no comment, no comment. E quindi, ragazzi, nada. Scriviamo trade. Allora. Trade. Crackhead. Egg. Vediamo un po'. Possiamo non fare che schiudiamo quello che ci usciva dal Crackhead Egg. Non lo so, magari se nessuno lo vuole facciamo che schiudiamo il Crackhead Egg e basta. Ma come con Crackhead Egg c'è? Trade. Crackhead. Egg. Allora. Dai, per favore. Dai. Non ci credo che a nessuno interessa un Crackhead Egg. Ragazzi. Non ci credo. Non ci credo che a nessuno interessa. Dai. Ma che... Ma che care di nulla. Crackhead. Beh, correttore. Eh sì, for my video. Scriviamo così, eh. Così capiscono che è per un video. Quindi scambiamo. Allora, capiscono perché... Allora, vedo... Allora, vedo... Snoop and Ride for Pirate or Crow or Ravel Unicorn. Non è che crendi. Ciao, Dobby. E più o tre. Aspettate un attimo che salutiamo Moon321 al trattino basso Ita che ci saluta. Ciao, storeg. Dobby, l'hai già salutata. Ah sì? Ah sì, è vero. Ok, io lo scambio. Bene. Lei lo scambia? Bene. Ok, va bene. C'è la fan che lo scambia. Per... Perché... Triste. Perché... Ragazzi! Da un comune a un raro? Da un comune... Va bene. Mi sta dando un Sears. Ora però c'è la cosa. Accetterà o non accetterà? Sì, ragazzi, sta accettando. Comunque mi piace moltissimo questa visuale e spero vi piaccia anche a voi. Allora, scriviamo già. Thank you. Grazie, grazie, grazie. Veloce, dai, dai, dai. Veloce. Perfetto. Ok. Eccomi. L'ho fatto solo per te. Grazie. Quindi, ragazzi, saluto Alessia che è Lujain Polar. Grazie mille. E ora dobbiamo scambiare il Sears. Eh, io sto scambando in chat, ragazzi. Eh sì, lo vediamo. Lo vediamo proprio. Dai. Che cosa mi offri? Ok. Ok. Trade Sears. 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 Quindi Sears. Vediamo un po'. C'è anche un article in dire lì. Vabbè, tu ce l'hai già. Qui, ma per... Tony potrebbe offrire per un pinket. Sì, ragazzi. Quindi scrivete. Ho capito che... E in chat hanno scritto Bici, il filo del pinket. Povero Tony. Ok, ragazzi. Trade Sears. Ricordiamoci che comunque... E da comune a pet leggendario. No, vabbè, ragazzi. Ha capito. Wow. Ma è bravissima. Sì. Sì. Aspettate un attimo. Che questo correttore... Io seriamente non lo sopporto. Sì, dai, dai, dai. Per favore. Trade Sears. Sears. Benissimo. Dai, ragazzi. Dai, dai. Io credo in questo Sea Horse. Dai. E io credo in questo Blackhead Egg. Dai, ragazzi. Se nessuno me lo scambia... Trattamente. Sì. Trade. Diciamo, ragazzi, che è difficile. Quindi, scusate, ma dovete aspettare un pochino. Perché comunque è molto complicato fare con questo... Cioè, trade. Con un Sea Horse e un Crackhead Egg. Comunque un Sea Horse non si trova. Dai. Lo so che non si trova da poco, però... Allora, ragazzi. Io lo schiudo, sto Crackhead Egg. Bene. Io lo schiudo. Vai. Va bene. Sea Horse per Mare Horse. Va bene. Magari. No. No. Va bene. Il nome è molto simile. Horse. Sempre lì siamo, no? Sì. No? Ok. So che quello si trova anche quello si trova nel Mare Horse. Sì. Ok, ragazzi. Sto scambiando un... Come vedete, un Sea Horse per un Mare Horse. Magari il Mare Horse piace di più del Sea Horse. Non lo so, ragazzi. Doggy, per caso è una mela dell'ospedale? No. Sorry. Ok. Trade Mare Horse. Doggy. Sì. Se puoi andarla a prenderla, così vado già al parco io. Ok. Non lo so, un attimo. Un attimino. Che non ce la voglio scambiare questa, quindi. Se mai... Ok, vado. Vado, 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 vado. Comunque, ragazzi, facciamo schiudere l'uovo a Eli e poi comunque è andato molto bene perché io sono arrivata da un comune... L'ho sbagliato, ragazzi. Non dovevo andare qua. Vabbè, alla dottoressa. Da un comune a un raro e l'ho scambiato poi per raro per appunto un Mare Horse. Quindi mi piace questo trade, anche perché di Mare Horse io ne avevo, guardate. Mentre che rientro dentro l'ospedale io ne avevo, quindi grazie. Comunque vorrei ringraziare il ragazzo Miami, giusto? E che ora vi dico anche come si chiama proprio. Per... Eli, scendi. Perché? Un attimo. Ok, no, ma che ti faccio trade a fare, no? Declinati, te lo do. La mela? Vero, vero. Perfetto. E in pratica, quindi, vorrei salutare questo ragazzo per il Metalox. Grazie mille, Tokyo. Di nulla. Aspettate. Vabbè, lì c'è Tony, scambi con Tony, trade con Tony. Ok, magari mi va, magari mi va. Dai, dai, dai. Eccolo qua. Ringrazio Miami2011, Lorenz East, per avermi regalato un Metalox. Grazie, grazie, grazie. E mentre faccio bere il mio... Adelma, sì. Mi ha tolto la mela. Che bellezza. Ma no, ma che flop. Ma che cosa, che bellezza, che flop. Ok, ragazzi. Ah, ok. Qui ho sempre persone da salutare, perché anche un'altra fan mi ha regalato questa macchina nuova. Questa qui, che io adoro, perché mi aveva detto, dato che era la tua preferita, guardate un po'. Dato che era la tua preferita, avevo visto in un video, te la regalo. Grazie mille. E vorrei appunto ringraziare... Quella... Allora, quella non la scambi, Pet. Cioè, i regali dai fan non li scambio. Ma magari, se la mia connessione dice, vai, doggy, ti do un po' di connessione... No, lo vediamo. E' prima. Va bene. Va bene, ragazzi. Ah, eccolo. Pianta Swag 1. Grazie per la macchina. Comunque, ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. Tappate la campanella. E lasciate tantissimi like e tantissimi commenti. E a domani. Ciao! Ciao!